Qua dentro trovate alcuni, insomma, quelli che non sono in giro, di quelle attrezzature che vengono date agli operatori ecologici che vanno a raccogliere i cassonetti, a svuotare i cassonetti e servono per taggare i bidoni che vengono svuotati. Io ho 24 anni, 25 quest'anno come la cooperativa. Sono addetto alla pianificazione dei turni, della locazione anche dei mezzi, degli operatori, della gestione poi anche di tutto quello che è l'attrezzatura di ERA, per cui i reader, i telefoni e tutti i servizi collegati al poter mandare correttamente gli operatori nelle zone, per cui correggere le cartine, aggiornare, gestire la pianificazione anche attraverso il portale di ERA, per cui tutto quello che è fra l'operativo e l'aspetto di pianificazione. Da quanto tempo sei in cooperativa? Io sono in cooperativa da agosto scorso con un contratto, ho fatto tre mesi di tirocinio da agosto fino a novembre e da metà novembre sono con un contratto di apprendistato qui come aiuto coordinatore. Che tipo di studi hai fatto? Io attualmente sto studiando Ingegneria Elettronica e Telecomunicazioni a Bologna e sono un po' fuori corso, però spero addirittura di arrivo e nel frattempo ho voluto quest'estate lanciarmi anche in questo mondo nuovo, che per me è nuovo quello del lavoro. Quindi comunque un'esperienza che doveva essere un'esperienza estiva, ma poi si è prolungata? Sì, doveva essere un'esperienza estiva, è arrivata la proposta a metà estate, cercavano una persona pratica del computer per supportare il settore operativo qui e mi hanno trovato e sai, ci sono quei treni che si vanno a prendere e passano a un certo orario e passano l'orario giusto, per cui è stata una bella opportunità, è una bella opportunità questa che ho preso quest'estate, che mi è stata donata. Come hai incrociato la cooperativa? Ho incrociato la cooperativa e diciamo così, la cooperativa la conoscevo già, conoscevo già perché comunque sono di Rimini Centro, per cui i camioncini della cooperativa li ho sempre visti in giro, conoscevo comunque anche qualche operatore personalmente prima di entrare in cooperativa e niente, c'è stata parte del Presidente una proposta di dare una mano ecco, di fare questa prova anche in virtù di una necessità della cooperativa, che poi te ne accorgi dopo, della necessità di un ruolo che serviva, per cui niente, è stato un incontro casuale ma non ero estraneo a conoscere la cooperativa, è chiaro che è un mondo strano perché io vengo chiaramente dagli studi universitari, vengo per esempio dal mondo dell'associazionismo cattolico, per cui sono educatori in parrocchia eccetera ed è anche un bel terreno, secondo me, dove mettere in campo a livello sia professionale ma anche umano tante competenze, anche con persone comunque svantaggiate, con storie di vita diverse dalla tua. Quindi rispetto, mi chiedevo, rispetto alla mission anche della cooperativa, che comunque immagino conosci, e rispetto anche al livello di professionalità che è stato raggiunto qui, penso alla qualità, alle certificazioni della qualità, la ISO 9000 sui servizi, l'ambiente e anche la certificazione, diciamo, legata alla sicurezza, cioè rispetto a queste cose qua, hai avuto una delusione oppure una conferma degli studi che hai fatto alla realtà che hai trovato? Ma, allora, nel concreto è chiaro che quello che ho studiato e sto studiando c'entra poco e niente con il lavoro che sto facendo, ma penso che sia un po' l'aspetto dell'ingegneria, cioè penso che sia più il metodo che ho appreso con gli studi universitari che mi serve, no? Cioè, vedo un problema, lo analizzo e cerco di trovare delle soluzioni sistemiche al problema, no? E penso che sia questo anche forse il dono che posso portare qua dentro, cioè quello di dare uno sguardo sistemico alle cose, non solo emergenziale, cioè risolvere il problema, ma risolvere il problema alla radice, no? Di modo che non si verifichi se possibile più, posto che insomma la legge di Murphy è sempre vera, però più che sulla competenza, perché di elettronica non è che faccio niente qua dentro, però l'aspetto dell'utilizzo del computer, l'utilizzo dei programmi di calcolo, di database, eccetera, anche l'aspetto di programmazione, no? Il pensiero computazionale aiuta quando hai da incasillare 50-60 dipendenti in 100 servizi, no? Cioè, serve anche questo sguardo qui che, secondo, fa molto meglio di me perché lo fa da anni, però è chiaro che lo faccio io con un approccio diverso, ecco, non necessariamente è migliore, però. Hai trovato una realtà, dal punto di vista dell'organizzazione, una realtà matura? Da rispetto a quando sono entrato quest'estate, nel pieno della stagione estiva, per cui anche in un periodo complesso della vita della cooperativa, che la stagione estiva è piena di persone che vengono a lavorare stagionalmente, è piena comunque anche di mezzi in più, cioè è una realtà molto frenetica. Da questo momento qui, da quest'estate ad ora, ho visto un crescere tanto a livello, diciamo, di serietà organizzativa, a livello aziendale, a livello di coordinamento alla cooperativa, cioè c'è proprio un lavorare come un'azienda in questi ultimi mesi, un'azienda chiaramente con una mission che rimane quella, però quando si hanno tanti dipendenti, tanti mezzi, tanti servizi, l'organizzazione è importante. Io ho visto una crescita sia anche con l'inserimento di figure in gamba, insomma, su un piano, su un punto di vista organizzativo, che sia Garavalli, che sia anche la Francesca, vice direttrice, per cui queste figure stanno aiutando tanto la cooperativa a crescere dal punto di vista di serietà organizzativa, che poi penso sia la chiave per fare bene questo servizio quando hai tanti mezzi, tante persone e tanti servizi. Poi comunque la cooperativa è sul territorio da 25 anni, insomma, anche questo percorso di quarto di secolo ha comunque... Chiaro, chiaro, chiaro. Io vedo sul mio piccolo, che è un mondo che ho iniziato a conoscere ora, però vedo un modo di lavorare anche della formica diverso da quelle di altre cooperativa che si vedono comunque in giro, tanto bene o male a Rimini sono queste le realtà che fanno pulizia delle strade, della raccolta dei rifiuti, eccetera. Cioè la formica secondo me si conferma come una realtà molto seria, ecco.